Ecco il pezzo della cavalleria rusticana, deputato, che è il pezzo della messa pasquale. Ecco. E adesso invece vi faccio sentire il pezzo, chiamato l'inno dei Garoceli, che aveva idealizzato il buon Franco. E poi ditemi se non c'è affinità. Ecco. 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 C'è ancora un pezzo, ma devo pulire un attimo la tromba. Ecco. 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 Entrava la cultura di Franco, qui quella melodia era rimasta in testa e poi comunque si è trasformata in una cosa diversa, se possibile. Ciao amici degli amici!